Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, ben ritrovati su Sicilia 24. La cronaca in primo piano partendo da Ispica, nel Ragusano, dove un 29enne è stato arrestato dai carabinieri e condotto in carcere. E' accusato di sequestro di persona e violenza sessuale. Il servizio. I carabinieri della stazione di Ispica hanno tratto in arresto un pregiudicato di 29 anni di origine algerina, coniugato e disoccupato. Il 29enne, che si trovava già ristretto in regime di arresti domiciliari nel comune di Ispica, è stato tradotto dai militari dell'arma presso la casa circondariale di Ragusa, in ottemperanza a un ordine di carcerazione emesso il 18 aprile scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. L'arrestato dovrà espiare una pena residua di 5 anni e 6 mesi di reclusione per i reati di sequestro di persona, violenza privata e violenza sessuale, commessi nel giugno 2020 nei confronti di una ragazza marocchina all'epoca dei fatti 19enne. Cambiamo argomento e ci spostiamo virtualmente nel Trapanese. I carabinieri della stazione di Salemi hanno arrestato in esecuzione di un'ordinanza di sostituzione della misura dell'affidamento in prova ai servizi socialmente utili, con quella più restrittiva della detenzione domiciliare, un pregiudicato salemitano classe 81 per le reiterate violazioni documentate dai militari dell'arma durante l'affidamento. L'uomo, con precedenti per minaccia e false attestazioni nell'istanza di accesso al gratuito patrocinio, è stato pertanto accompagnato presso la propria residenza in regime di detenzione domiciliare. Ed ora a Messina, dove la Digos ha invece fermato un cittadino siriano sbarcato proprio a Messina nei giorni scorsi. Il giovane è accusato di far parte di un'associazione di matrice jihadista, dunque un presunto terrorista. La Digos di Messina ha eseguito un fermo emesso dalla locale procura distrettuale per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo nei confronti di un diciottenne cittadino siriano. In occasione dei sistematici controlli di sicurezza effettuati dalla Polizia di Stato sui migranti che sbarcano clandestinamente sulle coste italiane, la sera dell'11 marzo scorso l'attenzione degli operatori della Digos della questura di Messina si è focalizzata sul giovane siriano soccorso in mare a largo delle coste siciliane da un pattugliatore della Guardia di Finanza e giunto al molo di Messina unitamente ad altri 222 stranieri. Le indagini dei poliziotti sono scaturite proprio alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso siriano apparse contraddittorie e dei contenuti presenti sul telefono, elementi dai quali è stata desunta la sua possibile aderenza un'organizzazione terroristica di matrice jihadista operante in Siria. Il proseguo delle indagini ha quindi consentito di recuperare i file che il fermato aveva cancellato dal device tra cui numerose chat e contenuti mediati cinneggianti alla Jihad da cui è emersa chiaramente la sua militanza anche con un ruolo di comando interno tra i siriani combattenti per Jabhat al-Nusra in considerazione dei gravi elementi indiziali raccolti e del pericolo di fuga connesso all'imminente uscita dell'indagato dal CPR la procura messinesi ha emesso un provvedimento di fermo che il giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta ha convalidato. Un altro arresto è stato invece effettuato a Catania dagli agenti della Polizia di Stato si tratta di uno spacciatore di sostanze stupefacenti, il servizio. Gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un uomo gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le volanti, impiegate in mirati servizi di controllo del territorio, hanno fermato un soggetto che si trovava a bordo di un motociclo in transito per viale Libertà. L'atteggiamento nervoso del conducente, alla vista della Polizia, ha insospettito gli agenti che hanno così deciso di approfondire i controlli perquisendo l'uomo e il mezzo sul quale viaggiava. L'accertamento ha dato esito positivo in quanto all'interno del vano sotto sella del motociclo è stato rinvenuto un borsello contenente 24 dosi di marijuana, 3 dosi di cocaina e 16 dosi di crack, tutte confezionate in bustine trasparenti e pronte per essere smerciate. All'interno della tasca del giubbotto indossato dall'uomo sono stati invece rinvenuti 490 euro in banconote di piccolo taglio, evidentemente provento dell'attività di spaccio. Nel corso del controllo, inoltre, all'utenza cellulare del soggetto sono giunti diversi messaggi da assuntori e clienti che fissavano appuntamenti per l'acquisto dello stupefacente. Alla luce dei fatti, con l'ausilio di altro personale, è stata effettuata un'ulteriore perquisizione presso l'abitazione dell'uomo dove è stato rinvenuto un tacquino nel quale l'uomo meticolosamente annotava nomi e indirizzi degli acquirenti unitamente alle cifre e al quantitativo della sostanza ceduta. Dopo aver proceduto al sequestro della droga, del denaro, del tacquino e del motociclo, che tra l'altro era privo di assicurazione, il pusher è stato arrestato e su disposizione del PM di turno, posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Un altro pusher è finito invece in manette a Paternò, sempre nel Catanese in questo caso, è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo ha provato a nascondersi alla vista dei militari, ma non è sfuggito al controllo. I carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò hanno arrestato in flagranza un trentenne del posto, già noto alle forze dell'ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell'arma, nel corso dello svolgimento di un servizio di contrasto all'illegalità diffusa, in particolare dello spaccio di droghe, nel transitare in via Emanuele Rapisarda, hanno notato un uomo che al passaggio della gazzella si è improvvisamente chinato nascondendosi dietro un'autovettura in sosta. I carabinieri hanno deciso di sottoporre a controllo il soggetto, che oltre a destare sospetto cercando di sparire dietro l'auto, è stato visto anche liberarsi repentinamente di una borsa a tracolla che ha lanciato sotto il veicolo. Recuperata la tracolla e bloccato l'uomo, identificato poi nel trentenne, i carabinieri hanno proceduto a una perquisizione al termine della quale hanno avuto riscontro, poiché all'interno della tracolla hanno trovato 17 involucri in carta alluminio contenenti marijuana per un peso complessivo di 23,60 grammi, sottoposti a sequestro dai militari. I carabinieri hanno posto il trentenne a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha convalidato l'arresto disponendo per lui la sottoposizione all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Torniamo a Catania per parlare dei controlli effettuati in città da parte dei carabinieri. I controlli del quartiere Librino sono state denunciate sei persone e sono scattate diverse sanzioni. Vediamo tutti i dettagli del servizio. Nell'ambito del piano straordinario di controllo del territorio avviato dal comando provinciale di Catania, in vista delle festività del 25 aprile e del 1 maggio, i carabinieri del nucleo radiomobile di Catania, nel corso della loro attività di pattugliamento delle aree di maggiore aggregazione e di quelle più esposte sotto il profilo della sicurezza pubblica, sono stati impegnati con la collaborazione della polizia locale in un servizio di contrasto all'illegalità diffusa nel quartiere di Librino. I militari dell'arma, in tale contesto operativo, hanno effettuato diversi controlli alle persone sottoposte a misure cautelari presso le rispettive abitazioni, riscontrando la regolare presenza in casa di tutti, tranne che per un ventenne un pregiudicato catanese sottoposto ai domiciliari in viale Moncada, che è stato deferito per evasione. Gli operanti inoltre hanno denunciato per furto di energia elettrica sei soggetti appartenenti a una stessa famiglia, proprietari di abitazioni, site e nel medesimo immobile ubicato in via Scordia. Nel prosieguo dell'attività di polizia, condotte anche nella zona di San Giorgio, sono state sottoposte a controllo due officine meccaniche, nei cui confronti sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 12 mila euro. È stato accertato infatti che i predetti esercizi pubblici svolgevano attività professionale in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative, violazione punita anche con la chiusura delle attività e il contestuale sequestro delle attrezzature da lavoro. Il titolare di una di esse, inoltre, è stato deferito all'autorità giudiziaria per traffico illecito di rifiuti speciali per non aver smaltito gli oli esausti, così come previsto dalla legge. I controlli alla circolazione stradale hanno consentito ai militari operanti di identificare una quarantina di persone e di sottoporre ad accertamenti una ventina di veicoli, con l'elevazione di 32 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, per un importo complessivo di circa 43 mila euro e il sequestro amministrativo di 10 veicoli. Notizia da Adrano, nella Catanese, dove la Polizia di Stato ha invece effettuato dei controlli sui camion di venditori di panini presenti in città e sono state riscontrate alcune irregolarità. Vediamo quali nel servizio. Nell'ambito delle diversificate attività di controllo del territorio, agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano, nelle ultime settimane, hanno proceduto a mirati servizi volti a verificare la regolarità degli automezzi, cosiddetti camion dei panini, utilizzati da locali esercizi ambulanti per la somministrazione di bevande e alimenti. Gli operatori di polizia, nel corso degli accurati controlli, hanno accertato come i furgoni non risultassero in regola con le basilari norme del codice della strada, riscontrando gravi violazioni incompatibili con il proseguimento dell'attività commerciale. Difatti, su cinque attività ambulanti controllate, ben tre, nella centralissima piazza Sant'Agostino ad Adrano, sono risultate irregolari per la mancata revisione del veicolo, una di esse in particolare per mancanza di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi. Violazioni per le quali sono previsti il fermo amministrativo e, nel caso della mancanza di assicurazione, il sequestro amministrativo del furgone, oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, che complessivamente per le tre attività è risultata di oltre 1.500 euro. Ripetuto il controllo qualche settimana dopo, è stato accertato che in due casi i trasgressori non avevano ottemperato all'obbligo di revisione, ragione per cui si è proceduto all'applicazione di un'ulteriore sanzione pecuniaria, oltre al fermo amministrativo per ulteriori 90 giorni e alla rimozione degli automezzi. È tornata nuovamente a tremare la terra in Sicilia, parliamo ovviamente di terremoti e dopo la scossa di magnitudo 4.4 delle 14.06 di ieri, con ipocentro nel mare Ionio, a circa 5 km da Acicastello, come detto la Sicilia orientale è tornata a tremare. È successo la notte scorsa, poco dopo la mezzanotte. Si tratta di un evento che è stato avvertito nelle città della costa ionica legato a una scossa di magnitudo 5.5 registrata invece a Malta, come detto poco dopo la mezzanotte. Gli esperti della sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma hanno localizzato l'ipocentro in mare a diversi chilometri sud-est dall'isola dei Cavalieri a una profondità di 10 km. Terremoto avvertito in alcuni comuni siciliani, ma fortunatamente anche stavolta non ci sono danni. Ed ora parliamo di calcio, andiamo ad ascoltare le parole di mister Corini, tecnico del Palermo, in vista della sfida di oggi contro il Benevento. Una partita densa di significato e per me, riavvolgendo il nastro, è come prima della partita d'andata che siamo andati a Benevento, che era un momento oggettivamente molto delicato dal punto di vista della classifica, di qualche risultato dove c'eravamo ripresi, poi vennero le due sconfitte di Cosenza e di Venezia. La classifica non era sicuramente buona, addirittura con i risultati del pomeriggio diventò ancora meno buona e in quel momento con grande equilibrio hanno fatto una partita per me importante di ordine e di equilibrio da squadra, perché quello che mi sento di dire è che questa è una squadra di ragazzi seri che hanno sempre interpretato bene il loro lavoro, a volte possiamo aver fatto bene, a volte meno bene ed è sempre un concetto per me globale e di Cosenza si ripropone 18 partite dopo, un'altra partita oggettivamente importantissima, perché potrebbe, come hai detto bene tu, mettere in sicurezza quello che era l'obiettivo stagionale dichiarato dalla proprietà e cui mi hanno affidato questo compito. Il percorso lo sapete bene, non mi va tutte le volte di ribadire da come abbiamo iniziato, a cosa abbiamo affrontato. Per me la squadra dopo un buon inizio di girone di ritorno ho percepito un'energia di un certo tipo che mi ha spinto a dire che sognavamo di entrare nel playoff e l'abbiamo sempre percepita e declinata parlando di sogno con la consapevolezza del percorso ma con la voglia di andare oltre magari qualche limite e ci abbiamo provato sempre. La storia del girone di ritorno mi sembra chiara perché abbiamo fatto 14 partite e dunque abbiamo perso tre volte e mi sono segnato che solo Genoa, Cagliari, Frosinone e Suttiro l'hanno perso due volte. Tre volte hanno perso come noi il Como e il Bari, le altre hanno perso di più. Il confine sottile è stato, se si va a declinare solo da un puntista dei risultati, si deve andare dentro a vedere le prestazioni, la crescita della squadra. Noi siamo il terzo miglior attacco, solo il Genoa e il Frosinone hanno fatto un gol più di noi. Purtroppo siamo la diciassettesima difesa come gol subiti. Abbiamo cercato di trovare una sintesi sulla voglia di fare una proposta e di avere un equilibrio difensivo. Su questo continuamente ci stiamo lavorando ma fa parte di un percorso di dove vogliamo portare la nostra squadra quest'anno perché in queste cinque partite si possono fare ancora tantissime cose ma su come vogliamo sviluppare il nostro futuro per diventare sempre più soldi, più forti, creare una mentalità di un certo tipo. È tutto, a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia.